Potrebbe essere stato un malore a uccidere l'uomo ritrovato all'interno di uno studio dentistico in un palazzo del quartiere residenziale di via Giovanni Pascoli a Pettino, periferia ovest dell'Aquila. A trovarlo questa mattina è stato il personale dello studio dentistico che ha subito allertato la volante dell'Aquila alle 8 e 30. Oltre alla volante sono intervenuti anche gli uomini della squadra mobile e la scientifica che hanno fatto i primi rilievi per cercare di ricostruire la vicenda. Non ci sono segni visibili di un impatto violento sul corpo dell'uomo o almeno non emergono dalle prime rilevazioni ma le indagini condotte dalla squadra mobile diretta dal vicequestore aggiunto Marco Mastrangelo e seguite dal pubblico ministero Fabio Picuti sono ancora in corso. Si saprà probabilmente tra domani e dopodomani la causa alla base della morte. Bisognerà però aspettare la relazione del medico legale incaricato di eseguire gli esami autoptici. L'ipotesi più plausibile al momento resta quella del malore, un infarto oppure un ictus. Al vaglio degli investigatori anche l'ipotesi che si tratti appunto effettivamente di un ladro entrato nella notte o durante il weekend da una piccola finestra laterale al piano terra facilmente raggiungibile e ritrovata in effetti aperta questa mattina. Non sono stati individuati documenti o cellulari addosso all'uomo di circa una cinquantina di anni e questo rende più difficile ricostruire risalire alla sua identità. La polizia sta cercando di individuare nella zona eventuali mezzi ad esempio furgoni con i quali presumibilmente se fosse confermata l'ipotesi del tentato furto portare via l'attrezzatura dentistica. Ma all'interno dello studio sembra non mancare nulla. Anche se le indagini sono in corso al momento non ci sono elementi per stabilire la presenza di complici. Una vicenda dunque tutta da ricostruire mentre si alza l'allarme sicurezza in città dopo gli ultimi furti o tentativi di furti. L'ultima spaccata risale a due giorni fa a essere colpita per l'enesima volta una gioielleria all'interno di un centro commerciale.